40 candeline per i weekend gastronomici della provincia di Pesaro e Urbino, Confcommercio Marche Nord celebrerà questo anniversario con un'edizione autunnale per un viaggio gastronomico nel territorio tra storia, arte e natura alla riscoperta della cucina locale di qualità. Lo scopo è sempre quello di promuovere la cucina dei borghi dell'entroterra e far scoprire itinerari inusuali. 40 anni della manifestazione enogastronomica più longeva della regione Marche, una manifestazione che ha sempre riscosso un grande successo tra i consumatori con una conferma anche da parte dei ristoratori che anche in momenti di difficoltà come possono essere quelli attuali confermano la loro adesione al progetto. Un progetto che ha avuto dei punti di forza nella qualità che ha saputo dare ai ristoranti dell'entroterra e nella valorizzazione dei borghi, dei paesi. Probabilmente grazie a questa iniziativa molte località dell'entroterra che erano normalmente ai margini dei percorsi turistici si sono fatte conoscere. E quindi il consumatore, il viaggiatore, il turista ha potuto apprezzare la cucina del territorio e anche scoprire questi borghi, magari visitando musei, chiese e quant'altro. Ed oggi viene anche presentata la nuova edizione. Quanti saranno le località appunto e ricordiamo fino a quando dureranno? Sì, l'iniziativa inizia il 16 settembre e termina il 3 dicembre. Sono 48 i ristoranti che partecipano all'iniziativa e interessano 29 località. 40 anni fa questa intuizione appunto che ha portato ad essere qua ancora oggi per l'edizione 2023 un progetto appunto importante di valorizzazione del territorio e della qualità dei prodotti. Direi che questi 40 anni sono serviti proprio per far conoscere quei borghi che senza i weekend gastronomici forse saremmo ancora nello nominato, invece oggi tutti li conoscono. Hanno fatto conoscere ristoranti che magari non si sapeva nemmeno che esistessero. Infatti il vero successo di questa manifestazione che ha permesso di far conoscere i borghi piccoli e grandi, ma anche i ristoranti che prima di weekend gastronomici non si conoscevano nemmeno e che oggi tutti conoscono. Promozione del territorio ma ovviamente anche qualità dei prodotti, parliamo di prodotti alimentari ma anche dei vini del territorio. Siamo già alla quarantesima edizione, questa poi tra l'altro tra i weekend gastronomici è quella più seguita e quella che la gente ama di più perché l'autunno, come si sa, l'entroterra si colora in maniera stupenda di vari colori e da fuori anche a noi i prodotti tipici del tartufo, del fungo e abbinati a quello che è stato l'estate, quello che è stata la mezzaderia. Quindi le nostre carni, sia dal pollo, al maiale e tutto quanto, diventa una stagione bellissima. E la scusa soprattutto per finita l'estate, per fare un sabato e domenica diverso, quindi prendi la macchina, fai un giro nell'entroterra e andare a mangiare qualcosa di qualità. Poi soprattutto dopo un'estate di scontrini selvaggi e cose varie c'è un prezzo garantito che sono dai 26 ai 29 euro che dà una garanzia di spesa alle persone che in questo periodo sono un po' confuse anche perché questo è un prezzo veramente promozionale per fare riscoprire il territorio e tutti quei piccoli ristoranti che molte volte sono l'unica energia di quei borghi e l'unica attività economica che è rimasta in quel borgo.